Diretta TV per tutti gli abbonati di News24 per il Rally Due Laghi, sempre più vicino al Via. Baveno accoglierà equipaggi e bolidi della carovana multicolore che animerà le strade vicine al Lago Maggiore i prossimi 11 e 12 novembre. Ci sarà tempo ancora fino all'1 novembre per mandare le iscrizioni. Alessandro Borghini e Silvio Gria verranno ricordati con due memorie alla loro dedicati. Al primo verrà intitolato il premio destinato al migliore. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.